e poi è medievale, è rinascimentale c'è tutto, non manca niente no, vabbè e non è riparca o esangimentale esangimentale no, ma la tristezza è dal 2000 è tutta sirionale e no, 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 il discorso che fa tristezza è dal 2000, insomma no, perché prima Volterra viveva nell'alabastro era una città di cultura molto ricca poi l'alabastro ha cominciato a scendere e c'è da quella quindi si è dovuto ripiegare peccato perché siete meravigliati cioè, è una delle più belle io ci vivo da 24 anni non è che sono Volterranea io vengo dal mare come noi noi siamo da Liguria, di Chiavari e io Cecina a Cecina è della famiglia oddio siamo venuti proprio io ci sono venuta a vivere e ho cominciato a lavorare sono entrata a social qui nel 89 c'era una vita io so solo le posso dire una cosa che lo dico con affetto io faccio un fotografo per una rivista di Arle o meglio facevo e io fotone ho fatto sono andata a San Gimiliano a Montecurciano ho fatto la festa del Tor no no, io dico la verità ho fatto la festa del Tordo ho fatto tutti quelli che vengono non è arrivato no no, io guardi sono arrivato al punto noi siamo arrivati qui stamattina prestissima all'alba perché noi abbiamo fatto l'ora di macchia e siamo arrivati e ho detto io ho un posto fotografato così no, ancora l'inizio visitatela quanto vi trattete fino a quale tutta allora visitatela all'ora del tramonto e semmai passate di qui o lungo il mura dove si vede questa mare sì e c'è quella retina rosa rossa no? da qui allora cioè io dopo 34 anni ancora affascinata ancora affascinata e mi piace nell'orario in cui non c'è nessuno non c'è nessuno oppure nella piazza dei priori proprio quando è buio ci passi ci sono quelle sculture beh quel che è certo è che se l'hai affascinata dopo sì perché Volpera ha una magia tutta sua e poi la chiesa di San Francesco io mi chiamo Francesco se voi guardate c'è la croce di Templato adesso andiamo perché stiamo visitando e la guardate da fuori da qua dove rimane quanto più su tanto so andando in giù in giù via Ricciarelli via San Lino tutta al dritto c'è andiamo a vedere comunque e c'è la croce dei Templati il Templati tra la trovo una bella storia di e quindi la vedo molto entusiasta sì mi piace però molto si vede si vede come ne fa ma si vede verso gli occhi che è proprio innamorata di questa città è vero che guardi io ho fatto una sorpresa di un interesse comune